Benvenuti ragazzi in questo mio primo episodio Cominciamo la nostra serie basata su Happy Wheels E niente, cominciamo Allora, vediamo Il primo livello che voglio provare Amazon Jetfall Prima con lui Allora Get down Sì, però se mi fai uscire Ok, ok Ma come sono fighe le scarpe del padre Ok Ok, 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 sei, sei, sei Sei, sei Ok, allora adesso Adesso vediamo Vediamo questo 99% impossibile Cazzo Ok Oh mio Dio, è una mina No, no Violento Ok, adesso oh mio dio combattimento contro la mina parte 1 sono vivo sono vivo cazzo sono vivo, sono vivo, no vediamo ce la faccio 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 ce la fac a me odi Qua ci vuole la canzone adatta Ok Vediamo questo Oh mio dio Ah bene Il vecchietto mi sta antipatico Vabbè c'era anche il Justin Bieber quindi ho fatto bene Però mi sta antipatico No no ok Ragazzi rimediamo le asce Oh mio dio Allora ragazzi scusate ma è suonato il telefono Ok Continuiamo con l'episodio Vediamo Direi di fare questo short earth donation Che cazzo è Oh mio dio Che cosa figa Scusate di nuovo Ok sono ricercato Bene continuiamo l'episodio speriamo che lo finisco Finiamo questo total death chamber perché mi ispira molto Ma che violenza Ok Crash of the crash Andiamo pure con Steve Vai Cos'è? Ma un livello decente No Ok andiamo stavolta con lui Oh mio dio No 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 ok 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 Uno più tranquillo Uno più tranquillo Vai 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 No 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 Allora vediamo se non riesco a beccare la morte Non la becco la morte giusto Si allo triple però le Le ball Bene La morte non la prendo Ma che cazzo Ok Vittoria Oddio no 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 Ma è impossì Ma è impossì Vai scavo Eddi Passa The kingdom of blue Ok Andiamo sopra il nonno Chuck Miniamo sulle punte Oh mio dio Un orpione No 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 Corri 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 Ok No di nuovo Vai nonno Chuck Annuso il sedere dei tuoi vicini Si Si No Si Vai 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 No cosa fai cosa fai No 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 Bene Ok vediamo adesso Faremo 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 Premo questo Ok Ok Ci siamo Sì Sì Oh No 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 Ci devo riuscire Ok in pratica adesso qui si scende Si scende Si sta Luke è diventato una trota Bene Guardate la testa Spike fall Ok Cosa Oh mio dio Bellissimo Ok Riprendo Oh mio dio Sì Yeah No 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 Ok allora facciamo così Piano 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 Dolore Vai 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 E' bellissimo Vediamo un altro livello Ok Questo mi ispira Premo con Depend Con Steve Don't touch the circle The circle Che cazzo ma un livello più più bello 8 più o più vediamo sono diventato tipo di pasta che non mi viene il nome dopo la caramelti quando deve essere fatta col matterello non so cosa sto dicendo questo con lui infatti ora mi spuntano offerte ok ho sbagliato il personaggio andiamo andiamo ok il più difficile smoshish youtuber no panda youtuber vai seeeh no costile seeeh ok scendi follower one billion oh mio dio oh mio dio ok allora vediamo the king of now can you survive vediamo l'ultimo e poi finiamo l'episodio ok ok violento ho vinto ho vinto va bene ragazzi l'episodio è finito se vi è piaciuto mettete un mi piace scusate per la scarsità delle parole ma sto giocando di notte e oltretutto il primo episodio che faccio quindi vi chiedo di scusarmi e vedremo nei prossimi episodi nei prossimi episodi di essere più 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 di essere più quindi se il video vi piace mettete un mi piace iscrivetevi e commentate alla prossima grazie